Presidente, il termine del 2023 facciamo un po' il bilancio di quello che è stato fino a un anno del campionato della Leo Filkem Roseto, possiamo dire senza mezzi termini che il campionato fino a un anno è stato molto positivo. Sì, nel 2023 non dobbiamo dimenticare la fase finale del campionato 22-23 che sicuramente non è stata piacevole ma ci ha insegnato un sacco di cose. E poi questo inizio di campionato 23-24, quindi parliamo di questi quattro mesi, siamo contenti, siamo felici, soddisfatti, la squadra è in crescita, abbiamo trovato dei ragazzi molto in gamba e questo ci fa piacere. Si è chiuso, o meglio, il 2023 con un filotto importante di vittorie, si ricomincerà l'anno nuovo in casa con Vicenza il 7 gennaio per giocarsi la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia? Sì, noi torneremo in campo il 7 gennaio e in caso di vittoria avremo in tasca la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia che comunque è un traguardo, è una soddisfazione, è un altro di quei segnali positivi dai quali andare veramente orgogliosi, fieri. Ripeto, sottolinea questo eventuale successo, la partecipazione a questi finali comunque prestigiosi, sottolinea anche il momento felice, le scelte fatte soprattutto che oggi lentamente cominciano a pagare.